La marcia dei diritti da Monterosso un messaggio di speranza, dibattiti, mostre e iniziative di solidarietà per l'Unice e per la Fondazione di Liegro. Il sistema giudiziario e con questo sistema giustico scolastico non lo andremo da sola parte, la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Ai miei tempi non c'era bisogno di dire certe cose perché si imparavano in famiglia e si imparavano a scuola. Nicola Gratteri, magistrato della DDA di Reggio Calabria e Alessandro Pultrone, promotore della marcia dei diritti, dal palcoscenico di Monterosso lo affermano con convinzione e non hanno dubbi. Per combattere l'illegalità, applicare i diritti umani e annullare le differenze è fondamentale e riformare la scuola, il sistema giudiziario e puntare sulla famiglia. Un convegno dibattito chiude così la prima giornata della marcia dei diritti. La manifestazione contenitore itinerante mette in rete i luoghi istituzionali, in primo luogo le scuole. E' qui che deve iniziare il cambiamento che le giovani generazioni possono subire o cambiare, afferma il maestro Alessandro Pultrone, artista, scultore, regista, pittore, comunicatore. E' con lui che dalla sapienza è partita la prima tappa della marcia. E' lui che in progress ha dipinto e continua a dipingere la maxitela con Gandhi, madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Aung San Suu Kyi, Arnoldo Farina, uno dei più importanti presidenti Unicef, originario di Monterosso. L'obiettivo è ad ogni mostra avere una persona che venga ritenuta rappresentativa della lotta per i diritti, che viene, mette la firma e per la mostra dopo viene rappresentata. Perché la marcia dei diritti non è una tela che si muove, è una tela che entra in un territorio, muove il territorio e si porta dietro tutto il territorio e le realtà che valgono, promuovendolo in tutto il mondo. A Monterosso la marcia dei diritti è stata seguita da un gruppo di appassionati psicomotricisti che hanno voluto coinvolgere i più giovani nel progetto. Noi psicomotricisti della FIP, insieme alla Scuola Serci, abbiamo appoggiato l'amministrazione comunale in questo progetto lanciando questo concorso che è la marcia di segni in marcia. Le tre opere dei bambini, più votati nel sito, seguiranno la marcia dei diritti. La marcia dei diritti è stata seguita da un gruppo di appassionati psicomotricisti della FIP, insieme alla FIP, insieme alla FIP, insieme alla FIP. La marcia dei diritti è stata seguita da un gruppo di appassionati psicomotricisti della FIP. Con pane e con piccoli, noi ogni di vediamo qua, è il tipo di lavoro che ci dà felicità. Ed è perché qui sotto c'è di diamanti e d'or una grande quantità. E così, e così, e così, e così, e così, ci trovate sempre qui. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. E se l'amore non c'è basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano, è una canzone, sarà perché ti amo, se cade il mondo, allora ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino, è così bello, che non mi sembra vero, se il mondo è matto, che cosa c'è di strano, matto per matto, almeno noi ci amiamo. C'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può, senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo. Per una bambola, un robot, pot, 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 magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, eh, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo, vedi però, però, e mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli, né sulla pancia, né sulla lingua. I used to think maybe you love me. Scrivi qualcosa per me, scrivi una frase per me. Scrivi di quello che fai, scrivi più forte che puoi. Il cuore di una canzone batte veloce, non lo sai. Scrivi qualcosa che non hai detto mai. Scrivi qualcosa che non hai detto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.